In queste settimane ho presentato una proposta di legge in consiglio regionale, una proposta che poi se verrà approvata dovrà andare alle camere perché mi sono posto il problema rispetto alle risorse che vengono spese dal sistema sanitario regionale per i cosiddetti medici a gettone. Sono figure professionali che hanno un guadagno che è circa tre volte rispetto a quello dei medici che sono assunti nelle varie aziende ospedaliere e questo sta creando veramente un problema molto grosso perché per lo stesso lavoro ci sono soggetti che prendono veramente molto di più rispetto a quegli assunti. Questa proposta di legge prevede, se dovesse essere approvata, che il medico gettonista può avere un'indennità massima che è quella di un medico neoassunto. Questo sarebbe una svolta epocale perché ad oggi sono innanzitutto diversi medici che si sono licenziati per andare a lavorare all'interno di queste società o cooperative. Con questa legge questo verrebbe evitato e soprattutto ci sarebbe un'equità a livello contributivo che sarebbe più che giusta. Dall'altra parte stiamo comunque denunciando il fatto che è importante togliere quello che viene chiamato il tetto di spesa e questa legge prevede anche questo, cioè il fatto che le aziende sanitarie non possono assumere il personale perché hanno un budget massimo a disposizione per assumere, per pagare il personale. Budget che però non viene considerato nel momento in cui vengono utilizzati i cosiddetti medici a gettone. Quindi una proposta di legge che metterebbe un po' di ordine a quello che l'utilizzo dei medici esterni oggi nella sanità pubblica e mi auguro che venga approvata.